Aldo Lovera, Savigliano, qual è il valore aggiunto di questo incantevole Natale per i cittadini savillanesi e non? È un Natale importantissimo perché intanto è il primo che si sviluppa in modo così copioso per la nostra città. Abbiamo messo insieme veramente tutte le nostre associazioni che lavorano sul Natale, la consulta cultura e promozione del territorio e la fondazione nuova Ete Manifestazioni. Questo noi contiamo veramente di aver messo insieme come sacrificio veramente un programma di alto livello che non solo vi ha gioia alla nostra città e ai nostri commercianti ma soprattutto vengono anche esenti dal di fuori dalle altre città e così nel gioire, nel godere di queste botteghe delle meraviglie, di queste feste, di questa giostra particolare, di queste manifestazioni musicali potranno anche fare la visita alla nostra città e a quelle che sono le nostre ricchezze dei musei e delle chiese eccetera eccetera.